salve a tutti bentornati su go games oggi andremo a vedere come sbloccare un passaggio segreto per raggiungere più agevolmente l'abisso tra le radici questa porzione di mappa qui che è una zona sotterranea è un po difficoltosa da raggiungere ci troviamo sempre sull'altopiano di altus il falo che ci interessa è terrazza sul viale e da qui vi faccio vedere la strada la strada Grazie a tutti. 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 Qui troverete l'amuleto favore dell'albero madre più... e qui dietro basterà fare un roll per aprire una zona segreta. Da qui vi faccio vedere la strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.